Conferenza stampa di presentazione di Crotone Torino si giocherà domani alle 15. Mister, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci eravamo lasciati all'ultima conferenza stampa alla vigilia di Cagliari Torino. Molto è successo da allora. Io le chiedo subito intanto come state. Tra tutte le domande che vi sono state rivolte in questo periodo sicuramente questa non me l'ha mai chiesto nessuno. Nel senso come state. Quindi è una domanda che apprezzo perché è chiaro che da questo punto di vista se una volta chiedere come va, ciao, come stai, significava avviare una conversazione, era un intercalare per avviare. In questo momento assume invece un valore decisamente diverso. Dimostra empatia ecco perché apprezzo molto la domanda e questo ci fa piacere. Sono stati giorni impegnativi, è indubbio, perché il Covid non è una passeggiata per nessuno. Però è anche vero che abbiamo una voglia matta di riprendere a giocare perché questo è il nostro lavoro e aver la fortuna di poter competere è per noi davvero molto importante. Ieri tra l'altro è stato il suo compleanno. Le rinnoviamo ovviamente gli auguri. Le chiedo se c'è stato qualche aneddoto che ha piacere di raccontarci. Abbiamo visto sui social una bellissima torta. Ecco quindi le chiediamo magari questo aneddoto o anche altri che ha piacere di dirci. Nulla di quello che ho già reso pubblico. Era un gesto molto semplice, bello allo stesso tempo perché mi ha fatto piacere. Sono quelle dimostrazioni che all'interno di un gruppo ma all'interno anche di una famiglia che condivide gioie e dolori c'è lo spazio e noi lo facciamo regolarmente con chiunque. Quindi è stato davvero molto bello e significativo. Cominciamo allora dalle domande dei colleghi che non possono essere qui in presenza. Qual è la condizione fisica e mentale della squadra? Lo sanno tutti ma è bene ricordarlo. Dopo lo stop degli allenamenti per cinque giorni e altri tre di lavoro solo individuale domani affronterete il Crotone con parecchi giocatori indisponibili e soltanto quattro giorni di allenamenti normali. Sì ma quello che è accaduto è la parte che noi non possiamo controllare. Ciò su cui possiamo incidere è sicuramente la nostra determinazione, l'entusiasmo di riprendere a fare quello che stavamo facendo. Da questo punto di vista io ho visto davvero nei ragazzi una voglia importante di riprendere la consapevolezza del proprio lavoro, del proprio percorso. E questo è quello che vogliamo fare. Abbiamo proprio l'esigenza e la voglia amata di iniziare. Ed è importante farlo con grande entusiasmo e con la determinazione di chissà che dobbiamo fare ancora un percorso lungo. Proseguiamo con Gianluca Sartori, Toronews.net. Come ha vissuto questo periodo? Ci aiuta a capire come un tecnico di Serie A può allenare per alcuni giorni la squadra restando tutti a casa? Che lavori si possono fare oltre a curare l'aspetto emozionale? Beh, è un po' come chiedere a Hamilton di parcheggiare o di utilizzare la Formula 1 nel suo cortile di casa. È chiaro che non si possa fare granché, è inutile girare attorno, però ci sono delle considerazioni importanti da fare. In questo periodo ad esempio si può lavorare molto a livello individuale, si possono mantenere allenate quelle capacità condizionali che possono essere anche slegate dal contesto del gioco. Si può lavorare molto sull'immaginazione, quindi immaginarsi le situazioni tattiche o i comportamenti che si possono avere in campo. Quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di stimolare un po' tutto. È gioco forza e non meno importante sicuramente l'aspetto relazionale, quindi la capacità di mantenersi in contatto condividendo il momento. Poi fortunatamente non sono stati troppi giorni, anche se 5 giorni di inattività e 3 di allenamento individuale di fatto ti fanno perdere un po' il ritmo della settimana. Ma ripeto, l'entusiasmo che abbiamo messo quando siamo ritornati, abbiamo potuto riallenarci nuovo insieme, è stato per noi molto importante. Guglielmo Buccheri, La Stampa. Nella primavera scorsa la lunga pausa le creò qualche problema. La squadra di fatto prima di marzo volava, a giugno fece più fatica di altri a rimettersi in moto. Naturalmente parliamo di due stop molto diversi per la durata, ma immagino che qualcosa di quell'esperienza possa servirle adesso. Sì, ma vale sempre il principio per cui non conta il problema, ma come reagisci? Io parto da questo presupposto che per me è fondamentale. E quindi la capacità di essere cosciente del fatto che nella vita accadono mille cose e anche nell'attività agonistica accadono diverse cose, soprattutto in questo contesto storico. E quindi è importante reagire immediatamente, farsi trovare pronto e avere un'alta capacità di adattamento. E questo è quello su cui abbiamo cercato di lavorare. Alessandro Barretti, Tutto Sport, i contagi da Covid limitano le possibilità di scelta in tema di formazione. D'altra parte potranno sortire l'effetto di compattare ulteriormente la squadra, stimolando una reazione particolarmente forte contro il Crotone? Sì, per noi il Crotone rappresenta un'ulteriore tappa del nostro percorso, per cui quello che abbiamo cercato di preparare e quello di cui abbiamo parlato con la squadra è la capacità in poco tempo di riprendere tutte quelle considerazioni che avevamo fatto prima, ripassare ciò che abbiamo magari già acquisito e inserire e migliorare ulteriormente quello che dobbiamo migliorare. Quindi io mi aspetto e so certo che i ragazzi che scendere in campo a Crotone daranno tutto per sé, per la maglia, per i compagni che sono ancora invischiati nel discorso Covid perché questo è quello che vogliamo fare. Vogliamo fare al meglio il nostro lavoro e metterci la passione possibile per rappresentare al meglio i nostri compagni e chi ci rappresenta. Mario Pagliara, la Gazzetta dello Sport, le chiede qual è la richiesta principale che ha presentato alla squadra la vigilia della partenza per Crotone dopo un periodo così anomalo e complicato? Di essere assolutamente liberi coi pensieri perché quello che potevamo preparare e controllare lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto con intensità. Ad oggi noi abbiamo solo la voglia di prendere questo aereo che ci porta in Calabria perché è una partita importante che vogliamo giocare con grande entusiasmo per cercare di continuare il nostro percorso e dobbiamo cercare di farlo liberi da pensieri non avere un coinvolgimento mentale negativo. C'è stata una situazione di cui abbiamo preso atto, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare per poterci mantenere in forma abbiamo ripreso ad allenarci in committiva, lo staff dei dottori, quindi lo staff medico si sono impegnati in maniera incredibile per poter permetterci di valutare se portare, decidere di portare, e lo vedremo oggi, tra oggi e domani, almeno tre giocatori che erano stati colpiti, i primi tre giocatori. Quindi vediamo se c'è questa possibilità, noi ne saremo molto felici perché in questo momento tutto allenante sia il fatto di stare in gruppo, sia il fatto di allenarsi anche giocando. Maglio Gasparotto, Corriere della Sera. Il Torino viene da un momento particolare, la carica di Cagliari e le difficoltà successive. Il Crotone, dove lei torna da avversario per la prima volta dopo quella salvezza, vive un momento di grande difficoltà e viene da una cinquina a Bergamo. Ci sarà spazio per coraggio e voglia di vincere o la paura potrebbe dominare entrambi? Io credo che sarà una parita molto aperta, mi aspetto una battaglia sportiva a tutti gli effetti, conosco l'ambiente, so che tipo di squadra affronteremo. La partita nostra di Cagliari e la loro di Bergamo non fanno testo perché ci sono condizioni diverse, ci sono passate di giorni in mezzo, c'è stato un cambio di allenatore. È una squadra che ha sempre fatto del dinamismo, della capacità di lottare le sue armi preferite e sono a strassicuro che sarà una partita dove entrambe le squadre giocheranno a viso aperto cercando di dibattersi a vicenda. Fabrizio Turco, La Repubblica. Caro mister, tanti auguri per il suo compleanno di ieri, comincia così, e le chiede a tal proposito cosa vorrebbe da Crotone come regalo. Come? Cosa vorrebbe come regalo dal Crotone? Regali, no, no, regali. Io credo che questa parola noi non la conosciamo. Il risultato è sempre frutto di grande impegno, di organizzazione, di grandi sacrifici, quindi tutto verrà di conseguenza. Regali non è una parola che fa parte del vocabolario del Torino. Emanuele Pastorella Ansa, dovevate scendere in campo con 5 punti di vantaggio sulla terz'ultima e invece ora siete costretti a rincorrere. Cosa cambia a livello psicologico? Ma niente, io ve l'ho detto il primo giorno addirittura. È una situazione tale per cui si può essere un po' più avanti, un po' più indietro. Si possono saltare delle parete, vale per noi, per le altre squadre. Ci sono squadre che magari in un certo momento ottengono meno di quello che seminano e viceversa. E quindi bisogna solo avere una grandissima capacità di rimanere focalizzati e concentrati sull'obiettivo che è il finale. Noi arriveremo fino all'ultima partita per lottare, per cercare di raggiungere quello che desideriamo fortemente, quello per cui ogni giorno ci alziamo con entusiasmo e cerchiamo di mettere in campo. E quindi è questo il percorso. Ed è questa la capacità di rimanere concentrati, focalizzati e sereni, con una determinazione, una rabbiosa determinazione che fa la differenza. Ivana Crocifisso, Toro.it, le chiede a che punto è la condizione di Sanabria, considerando che è stato fermo quasi un mese prima perché positivo al Covid e poi per lo stop agli allenamenti della squadra. Potremmo vederlo in campo per uno spezzone? Sicuramente Tony si è allenato già prima di questo nuovo stop e si è allenato in questi giorni con i suoi compagni. Quindi io sono certo che sarà utile già dalla partita con il Crotone, vedremo come e quando, ma sono sicuro, lo conosco, e so cosa posso aspettarmi da lui. Paolo Casamassima, cronaca qui. Aggregati alla prima squadra ci sono parecchi giovani della primavera di Cottafava. C'è qualcuno tra questi ragazzi che l'ha colpita in particolar modo? Devo dire che sono tutti ragazzi che sono venuti con entusiasmo e questo per me è già un valore fondamentale. Ringrazio soprattutto Marcello Cottafava, allenatore della primavera, perché io so benissimo, Martini poi tra l'altro loro avranno una parità molto importante, il derby, e la dimostrazione di come il settore giovanile del Torino si mette sempre e costantemente a disposizione della prima squadra. Questo è qualcosa di importante. L'educazione che ho riscontrato nei ragazzi, la voglia di allenarsi, la voglia di sfruttare magari una potenziale occasione. Devo dire che hanno fatto davvero, soprattutto Marcello, un gran lavoro. Mister, allora vi auguriamo buon viaggio e buon match. Grazie a voi. A lei. Grazie a voi. 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 Grazie a tutti